La televisione sta cambiando in tutta Europa. Nei prossimi mesi anche Telemia, Telemia Extra e le altre programmazioni regionali si riceveranno su nuove frequenze. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni consultate il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it 3, 2, 1, il countdown è finito! Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severino Abbigliamento veste anche d'inverno l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severino Abbigliamento veste tutti i nostri locali perfettamente sanificati. Vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici! Da Rita Severino Abbigliamento sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Affrettatevi! Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. e ben trovati al mio 60 News. Quest'oggi con me al mio fianco il Presidente dell'Associazione Vito Crea. Buonasera a tutti, io principalmente voglio ringraziarti, voglio ringraziare Telemia e tutta la stampa che dà voce a queste battaglie di civiltà perché sono delle battaglie di civiltà sul sociale e quindi mi pregio di fare, se mi consenti di fare tre piccole premesse. Prego! Allora, io parlo di sociale e rappresento delle varie associazioni, sul territorio sono Presidente dell'Associazione ADDA qui a sede a Bovalino, vivo e opero a Bovalino, quindi quando faccio le mie battaglie, lo faccio principalmente sul comune che conosco, che è vivo, che dovrebbe garantirmi i servizi e poi a… Giustamente i comuni limitrofi dove? I comuni limitrofi sulla provincia di Reggio, anche perfino sulla regione Calabria, quindi cosa? Questa è la seconda premessa. La terza premessa è che quello che andremo a discutere, quello che andremo a discutere sulla gestione dei fondi per i campestiti, non c'è nulla di personale contro nessuno, contro nessun ente, ma essendo dei fondi pubblici, essendo dei fondi pubblici penso che un po' di trasparenza ci vuole. Ma poi come Presidente dell'Adda penso che sia il minimo, quindi già anticipiamo che nessuno… Io ancora meno di lei, nel senso che giustamente io do larga voce a tutti quanti, eventualmente se c'è qualcuno dall'altra parte che vuole contrabbattere, siamo qui a Telemia, giusto? Noi siamo soli ed esclusivamente per la trasparenza, nessuno deve puntare il dito a nessuno, ma solo ed esclusivamente a far chiarezza e a migliorarci. E a migliorarci nei servizi, poi anche perché guarda Raffaella, la cosa nel reparto sociale è tragico, perché ho preso alcuni appunti da alcune riviste specializzate, noi andiamo, questi sono dati di fatto, non si possono smentire, noi siamo la cenerentola d'Italia per quanto riguarda la spesa pro capita sul sociale che è di soli 22 Euro contro i 392 Euro pro capite del Trentino Alto Adice e contro la regione del Meridione che spende e che impegna sul sociale la spesa pro capite di 243 Euro a persona è la Sardegna, infatti in Sardegna in Sardegna ci sono merida di servizi, c'è l'applicazione dei progetti di vita, c'è il dopo di noi, c'è il durante di noi, c'è la vita indipendente, perché c'è la partecipazione e c'è la progettazione e quindi questa era una premessa dovuta che nessuno punta il dito contro il comune di Bovalino o contro le parrocchie del comune di Bovalino, perché andremo a parlare di campestivi, però noi potremmo, siccome i fondi per i campestivi sono stati dati con i ristori durante questa pandemia, sono stati dati dal Ministero della Famiglia per tutti i comuni d'Italia, circa il 95% ha partecipato e c'è un parametro che è di 18 Euro pro capite a persona in base alla fascia d'età da 0 a 17 anni. Posso dare alcuni dati se vuoi, per esempio Bovalino ha avuto assegnati 31.169,49 perché la fascia d'età è da 0 a 17 che dovrebbero soffrire di questi campestivi, sono 1.700, per esempio andiamo su Caraffa del Bianco, sono stati dati 1.045,10 perché ci sono 57 persone, ti posso dire per esempio che da dove provengo io, che sono di Galatro, posso dire che il comune di Galatro con 219 persone con la fascia da 0 a 17 non ha speso 4.015 Euro che devono andare restituiti, Ferroletto della Chiesa con 232 persone non ha speso 4.253, Fiumara, 1.700, quindi potremmo fare un discorso, infatti io come associazione che cosa invito? Invito le persone impegnate sul sociale, le associazioni, il terzo settore, a vigilare su questi fondi che sono necessari specialmente durante quello periodo, io ci tengo a precisare che essendo di Bovalino, operando su Bovalino ho notato delle incongruenze, noi sono stato tuo ospite precedentemente, abbiamo lanciato un'allarme, un'allarme, infatti con te volevo, Presidente se lei è d'accordo con me, volevamo fare alcuni step giusto per far capire anche a casa di quello che stiamo parlando e di quello che andiamo ad affrontare, noi eravamo rimasti nella passata trasmissione sui fondi del 2020, iniziamo da lì Presidente, così poi andiamo a seguire con gli step, se no facciamo un po' mescuglio, come è andato a finire? Raccontaci! Andato a finire che come avevo denunciato i fondi sono andati persi, sono state restituite al Ministero della Famiglia, infatti subito dopo la trasmissione c'è stata un'assemblea in cui ha partecipato il Sindaco e l'assessore delegato, la consulta delle soggezioni, dove rammaricandosi il Sindaco ha detto la verità, sono stati persi. Questo è stato di fatto? Si è stato di fatto, è uscito che si è rammaricato di questo momento? Si è rammaricato, ma a me non basta il rammarico, perché di fronte certe cose non c'è rammarico, bisogna avere apertura, bisogna avere partecipazione, bisogna parlare, inserire e confrontarsi con le associazioni, con il terzo settore, con le persone che… Con questo però Presidente abbiamo detto che non puntiamo il dito a nessuno, quindi parliamo in generale. Avevi contestato anche l'impegno dei fondi 2021 attribuito anche alle parrocchie. Perfetto. Allora, da qui ti lascio. Da qui parliamo, partiamo. Allora, io naturalmente la stampa sia online sia cartaggia ha portato avanti questa mia battaglia, purtroppo dobbiamo parlare di Bovalidio perché… È ovvio, sì va bene, è abiti di qui, sì certo. Però io invito, invito anche le altre associazioni a stare addosso e a valutare tutti gli altri comuni, io fin dove arrivo e dove sono chiamato. Forse tu sei più un pochettino mirato su Bovalidio perché è la tua residenza, vivi e quindi… Vivo a Dubai. Poi non ci dimentichiamo che il Presidente ha anche una storia con la figlia di Sabile e quindi li prema ancora di più ovviamente perché la vive in prima persona. Allora, io volevo fare il dito. Ci tengo a sottolinearlo. Allora, perfetto. In seguito noi ci eravamo lasciati dicendoci, cara Raffaella, ci aggiorniamo a gennaio e vedi che purtroppo le mie previsioni saranno quelle che ti ho detto, perché che cosa è successo? Innanzitutto io ho contestato il discorso che con un'azione unilaterale, l'amministrazione comunale ha deciso, la parola dice campi estivi e sì, è vero che ti dà la possibilità di spenderli entro il 31 dicembre, mentre quelli del 2020 erano entro ottobre, ne rendi contare entro dicembre, entro novembre, il 14 novembre mi sembra. Comunque però non è che significa che io non devo gestire i servizi sociali tipo fosse casa mia, io devo confrontarmi col terzo settore, devo confrontarmi con le associazioni e l'impegno che aveva preso l'amministrazione era quella che ci fosse il confronto e l'abbraccio con le consulte dell'associazione, questo non è avvenuto perché sono rimaste solo parole, non è vero che la consulta dell'associazione Bovalino oltre ad essere decaduta per termine opera in burocrazio non ha nessuna cosa, quindi questa è una premessa. Allora, io ho contestato se tu ricordi bene il fatto che i fondi venivamo da una situazione drammatica che c'era la pandemia, dalla chiusura delle scuole etc., e quindi quale cosa migliore con il bel tempo, con il periodo di luglio, agosto, fare delle attività sociali, perché dopo ti posso dire anche come potevano essere sviluppati. Autonomamente l'amministrazione comunale, il suo assessore delegato ha deciso con un atto di indirizzo unitariamente di affidare queste 31 mila e passa euro, escluso 3.100 per l'acquisto di una console, di un impianto audio video che ha provveduto l'amministrazione, l'altre 28 mila Euro dovevano essere gestiti direttamente dalle tre parrocchie, nulla a togliere dalle parrocchie e quindi con l'inizio delle attività a novembre, la scatta il primo campanellino d'allarme, scusatemi, ma se noi venivamo da quella situazione di chiusura, di non socializzazione, questi soldi, questi fondi, tutti i comuni d'Italia ce li hanno avuti per creare socializzazione, quindi con campi, dopo noi a Bovalina abbiamo miriade di posti bellissimi, abbiamo il mare, abbiamo il parco dei diritti sulla carta, abbiamo i parchi giochi etc., che con un'attenta programmazione, adesso vedi che il discorso dei fondi estivi non è solo una questione che prende Vito Crea e toglie fuori. L'altra sera mi sono messo a ridere perché strisci alla notizia, è andata a Seracusa dove ha tirato fuori il discorso che il comune di Seracusa ha acquistato con i soldi dei fondi estivi, tre SUV per accompagnare i ragazzi, cosa strana, infatti c'era un solo autista, potevo capire, uno scuola bus, non tre SUV per… Con un solo autista, questo è successo a Siracusa. Qui infatti c'è stato il collegamento con il Ministero della Famiglia dove il Sindaco si arriva, noi abbiamo chiesto l'autorizzazione, nelle domande nei FAC del Ministero c'è la domanda dove si scrive, si può acquistare un mezzo di trasporto etc., il Ministero dice dipende sì se serve ai disabili e a fare come mezzo di trasporto, ma non i sub, infatti il Ministero ha detto vabbè quando li renderanno ci sarà da ridere, vediamo la cosa. Allora, secondaria cosa, nonostante questo, io ho visto le proposte progettuali, mi sembra che ne abbiamo parlato l'altra volta, anche per il 2021, che da una sola rendicontazione che ho avuto, perché occhio i fondi sono stati attribuiti, cerco di non parlare tecnico perché… Bravissimo, in modo tale che a casa capiscono… A casa si capisce, no, allora praticamente in maniera non tecnica e terra terra, cioè praticamente l'amministrazione ha dato disposizione all'ufficio amministrativo affinché provveda a fare cosa, hanno fatto una convenzione, hanno presentato dei progetti nelle parrocchie e dove praticamente hanno… il Sindaco, tanto per dirti, nell'incontro con la consulta che è arrivato sempre il 19 novembre, il 19 novembre mi risulta che i campi estivi sono stati iniziati, e là è scattata questa domanda, dico Sindaco, guardi, in generale, allora quando si gestiscono soldi pubblici, quando si gestiscono soldi pubblici ci deve essere trasparenza, ci devono essere avvisi, ci devono essere domande di partecipazione, ci deve essere il patto di corrabilità tra famiglia e autentica, non dimentichiamo che questi sono ragazzini minorenni, quindi hanno bisogno del tutore che giustamente autorizza e che c'è un patto di corresponsabilità che io, come hanno fatto alcuni comuni, tipo Montalto Fugo, nell'avviso pubblico c'è praticamente il patto di corrabilità e la compartecipazione delle famiglie alle cose, anche perché è divise, perché tu non puoi fare, devi dividerli per fascia d'età, non è che puoi fare da 0 a 17 anni, devi avere educatori, devi avere cose, competenze ognuno della sua fascia d'età, e questo non è avvenuto Presidente? No, non è avvenuto, siccome ho una ragazza di 16 anni, cercavo di capire… Ovviamente Presidente, lei si sta prendendo la risposta… Sì, no, 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 sono tutte documentate, Dottore Raffaella. Allora, io dicevo… Io voglio capire una cosa, quando lei parla di trasparenza sulla rendicontazione, vuoi spiegarci meglio cosa intendo? Perfetto, ma allora non è quello che intendo io, è quello che intende il Ministero della Famiglia, tanto è vero che non so se la regia può anche inviare il tutorial del Ministero, dove praticamente ci sono tutte le situazioni e queste sono… Tutti gli step, allora chiedo dalla regia il tutorial del monitoraggio del finanziamento, così up step il Presidente ce lo spiega, vai con la regia… Allora, non so se posso parlare… Assolutamente sì, così… Questo qui è il sito del Dipartimento delle politiche della famiglia, dove praticamente stabilisce che entro il 31 marzo del 2022, eccolo là, c'è già scritto, finanziamento ai centri estivi, entro il 31 marzo del 2022, dove essere rendicontato e ci deve essere la cosa… La rendicontazione, la rendicontazione sul monitoraggio, adesso spiega il sito come recuperare il manuale, quello che vi ho fatto vedere io… Eccolo là… Quindi fa seguire a step… E ti indica, vedi come… Il sommario di tutto quello che c'è… 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 Adesso ti dice quale recuperare la password, eccolo là ci sono tutti i riparti… Dopo se la regia può stopparla nel modo… Quando gli dico io… Assolutamente… Così capiamo la situazione, eccolo qua… Dice a chi inviarli, come creare la scheda… Adesso si crea la username e la password, no? E la PEC, sì… Cioè questa qui tramite la PEC del comune viene mandata la password, Bologna per esempio… Cosa… Gli viene mandato un'email dove gli danno una password provvisoria… Dopodiché dopo… Eccolo là, lo sta facendo vedere… Rimposte il campo… Eccolo là… Lo mette… Questo qui sta parlando di Bologna… Vabbè certo… Abbiamo preso… E si deve inserire… Si deve inserire… Username… E la… Ecco… Come si fa… Eccetera eccetera… Vedete… Tiene lo suo sito… Eccetera eccetera… Quindi si dovrebbe creare… E' molto facilitato voglio dire… Si ma si dovrebbe… Perché ti segue step a step… Perfetto… Passo per passo… Si dovrebbe creare una scheda di monitoraggio… Tu dici quando ci dobbiamo… Sulla scheda di monitoraggio… Sì… Sulla scheda di monitoraggio… Sulla scheda di monitoraggio… Non è che si deve mettere solamente… Perché dal rendiconto che ho io… Dal rendiconto che sono dati ufficiali… Dal rendiconto che ho io ci sono… Questo è il rendiconto contabile e allegati… Un impianto audio video completo… Per 5.180 euro… Notate bene che… Notate bene che già l'amministrazione… Intanto sta andando avanti… Si… Notate bene che l'amministrazione… Si… Ha già provveduto all'acquisto di un impianto audio video… Proprio per queste cose… Quindi… E' la cosa… Poi ha fatto… Hanno comprato 5 gazebo completi… Di zavorra… 4.599 euro… Si… Poi… Fornitura per coppie a porte… Minicalcio… Calciopalille… E 15 tavoli… Quindi se vuoi… Utilizzo del… Si può fermare qua… No… Si doveva fermare… Si… Rimettiamo nell'ultima immagine… Se riusciamo dalla regia… Dove c'è scritto finanziamenti… C'è praticamente… C'è praticamente… Ecco… E' perfetto… Ecco qui… Perfetto… Perfetto… Se voi vedete… Utilizzo del finanziamento dipartimento di portamento famiglia… E là c'è scritto… Il comune… Autorizzato in tutto e in parte… Le risorse del finanziamento dipartimento famiglia… Deve scrivere sì o no… Può andare avanti… C'è una schermata… C'è una schermata… C'è una schermata… Sì… C'è più avanti… Sì… C'è una schermata… Dove dice… Eccola… Dove dice… Eccola qua… Perfetto… C'è una schermata dove dice… Quanti… Gli autorizzati… Quanti… C'è una descrizione del progetto… Il numero dei partecipanti… E quanti hanno beneficiato… Quindi quando io parlo… È tutto chiaro… C'è perfetto… Si può… Si può togliere… Si può togliere… Il tutorial… E quindi… Allora… Ritornando a noi… Quindi… Quando io dico… Dove… Come… E quando… Sono stati impegnati… Sti… Sti fondi… Io intendo dire questo… Per me la rendicontazione… Non è dire… Io ho comprato… Un impianto audio video… Per 5.190 euro… Occhio… Che era stato già comprato… Dall'amministrazione comunale… Che era trattenuta… 3.182 euro… Una cosa leggera… A me non interessa… Che cosa… Che ha comprato questi 4 gazebo… Questi 4 gazebo… Che ha pagato… 4.599… 5 gazebo… Dove li ha utilizzati? C'è… Il patto di corresponsabilità… Con i genitori… Con i genitori… I avvisi… Di partecipazione… E… Eccetera… Nella rendicontazione… Nella rendicontazione… Non ci sono stati… Non ci sono… No… E appunto c'è scritto… C'è scritto… Che… Si fa… Si fa una premessa… Si fa una premessa… Si fa una premessa sulle attività meritorie della parrocchia… Ma la parrocchia… Ma la parrocchia… I fondi… Non li ha avuti… Per… Per… Per il Crest… Per il Lung-Sarm-Karmer… Per… Qualc'altra cosa… No… Oppure per… Per l'iniziativa Olimpiade dell'Immacolata… No… Perché dice… Sì… C'è la partecipazione… Perché dice… L'8 dicembre 2021 è stata organizzata la prima denizione delle Olimpiadi dell'Immacolata… L'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 300 bambini e una trentina di giovani animatori e animatrici… Ha attivato l'intero paese e la comunità in modo trascinante coinvolgendo l'associazione sportiva Scuola Calcio ADS di Gigi Frasca… La partecipazione dell'amministrazione comunale e della Proloco… Questi sono alcuni punti che lei sta a leggere giustamente… Dalla rendicontazione… Occhio… C'è… E poi mi parla di una tombolata per… Della… Della Caritas… No… C'è… Ma ragazzi miei… C'è… I fondi sono stati a specifica destinazione… Allora… Già è stata fatta… Perché io quando parlo di Libera Chiesa e Libero Stato… C'è già stata fatta una discriminazione… Nel senso che su 1700 persone da 0 a 17 anni… Penso che ci siano musulmani, marocchini, testimoni di Geova, di altre religioni evangelici… Che praticamente alle parrocchie non partecipano… Quindi già… Di fatto… Sorvoliamo questo… Sorvoliamo questo… Ma… Mi dite… Mi dite… Per esempio… Se ci sono state persone disabili… Con quali operatori avete usato… C'è perché… Per avere a che fare con le persone disabili… Tipo un autistico… Ci vuole una persona specializzata… Un educatore specializzato… Un educatore è proprio indicato… Professionale suo… Certo… E poi… L'avete pagato questo… Questo educatore… E' stato fatto a livello volontario… Quanto… Dove… Perché la scheda parla… Da… A… Cioè da quando… A quando… Sono stati svolte questi campestivi… Quanti sono stati i partecipanti… E tutto… Cioè… Non… Ok… Le spese… Nel… 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 Cioè… Nel… Cioè nel programma originale… Ah… Del… Del progetto che era stato presentato… Da chi ha presentato la rendicontazione… Sì… Ci… C'è stabilito… Questi sono tutti da tupicciani… Cioè praticamente… Tipo del progetto… Centro estivi… Aperto per feri… bambini e ragazzi di età, qua dice, soddisfare le esigenze di bambini e ragazzi diversamente abili creando percorsi di promozione all'integrazione e della relazione età, nasce dall'ambito del confronto, poi si dice che il servizio sarà attivo dal giorno 11 novembre 2021 al giorno 31 dicembre 2021, tutti i giorni dalle 15 alle 19, tutto questo non c'è stato nessun invito pubblico a prendere, ore 14 e 30, ci siamo? Sì, ma oltretutto significa questo, teniamo presente che durante il mese di dicembre sono stati dall'undi, perché in tutti i posti sono stati sospesi tutte le attività all'esterno, sagre, quindi l'ultima attività è stata fatta con le Olimpiadi dell'Immacolata, attività meritoria che fa sempre, ma non è destinata, precisiamo che cos'è un campo estivo, infatti questi fondi sono stati dati per la socializzazione, l'integrazione di servizi ludici, ricreativi eccetera eccetera, preclude che gli enti del terzo settore, le associazioni, anche le attività imprenditoriali in regola con il DURC, eccetera eccetera, possono manifestare l'interesse a predisporre questi campi qua, con dei programmi, io programmi sulla rendicontazione non ne vedo, secondaria cosa, questi programmi devono prevedere appunto un patto di collaborazione tra il soggetto che ne soffruisce, la famiglia e l'ente. Certo, deve essere tutto un collante tra di loro per avere un'assunzionia. Se nel progetto originale c'è scritto che il servizio sarà attivo dall'11 novembre fino al 31 dicembre e dal 10 dicembre al 31 dicembre sono state sospese tutte le attività, quindi dall'11 novembre fino all'8 dicembre non penso che si potevano fare tutte queste attività, anche perché nel rendiconto, nella scheda di sintesi, nella tabella viene indicato il dettaglio del preventivo di spesa, perché quella è la rendicontazione che abbiamo visto. Nella tabella invece? Nella tabella c'era scritto mezzi mobili, 3 gazebo, 3.500 Euro, ne hanno comprati 5, li hanno pagati 5.000 Euro, dopo c'è un gazebo a 1.000 Euro, poi dice un impianto audio, luci, video 3.000 Euro e l'hanno pagato 5.000 e qualcosa, occhio che questo impianto audio, video già ce l'aveva il comune, due porte calcio 400 Euro, kit palla a volo 300 Euro. Ma questi alla fine sono stati utilizzati? No, anche perché palloni vari, magliette colorate, io non ho visto nessuna maglietta a 1.000 Euro, poi c'era perfino consulenze di 500 Euro. Ma forse avevano tutto il pacchetto e poi con il fatto dell'epidemia hanno dovuto bloccare? Allora, io penso che nel momento in cui, allora, con determina, adesso non vado sul tecnico, ma dico, con determina numero 569 del 30, no, con determina 204 del 30 novembre del 2021, l'Unità Operativa Amministrativa Affari Generali ha liquidato le somme per la realizzazione dei progetti centroestivi 2021. Quindi già a novembre le parrocchie hanno avuto le somme dicendo che non so, eccetera, eccetera, visto il progetto San Nicolata di Bari 14.000 Euro, un protocollo del 29 novembre, parrocchie Santa Caterina 7.000 Euro, parrocchie San Martino, c'era le cose e nel corpo della delibera c'era stabilito che praticamente questi 28.000 Euro dovevano essere rendicontati al Comune entro il 31 e il 31 dicembre, perché dovevano essere rendicontati entro il 31 dicembre? Perché praticamente l'Unità Operativa o l'Amministrazione o l'Ufficio alle Politiche Sociali doveva valutare la congruità tra gli obiettivi del finanziamento e la spesa se erano congrue e se non erano congrue doveva praticamente richiede la restituzione dei fondi perché questi entro il 31 marzo li deve rendicontare sulla piattaforma al Ministero, quindi alla data del 7 febbraio 2022 io sono venuto in possesso di una sola rendicontazione, questa è la situazione e poi possiamo fare tutti i progetti, io ti posso garantire, io ti posso garantire perché si dice, tu mi puoi fare la domanda e dirmi ma tu come le avresti utilizzate? Infatti questa è la mia, come associazione cosa avresti proposto più che altro? Allora cosa avrei proposto? Premettiamo che le somme sono state accreditate dal comune di Povalino il 29 luglio, quindi praticamente invece di fare l'affidamento diretto e il programma di collaborazione con le parrocchie, allora io facevo, avevo due strade, fare un avviso è una manifestazione di interesse ad associazioni, attività ludiche, un invito per far partecipi perfetto, a far partecipi in modo tale che praticamente mettessero a disposizione le loro competenze eccetera eccetera, il comune cosa doveva fare? Doveva emanare un alviso di partecipazione per le famiglie gli dava dei voucher in base al reddito, in base alla fascia d'età, in base alle prestazioni e la famiglia decideva, per esempio c'è mia figlia che ha bisogno di un, perché si parla pure di programmi educativi, ha bisogno di una ripresa di doposcuola, di materia eccetera eccetera, allora io che facevo? all'interno della short list c'è la possibilità, io prendevo e andavo con il voucher direttamente c'è, visto che praticamente il Covid che ci ha dimostrato scientificamente ha creato problemi psicologici agli adulti e ai bambini eccetera eccetera, immaginiamoci ai bambini disabili, perfetto, allora ci sono delle psicologhe accreditate o dei centri di psicologia accreditate all'albo, alla short list, mi prendevo e mi portavo mia figlia a fare le sedute di psicologia, quindi questa poteva essere un'altra parte, la seconda parte, la seconda strada, la seconda option, quale poteva essere? una soluzione mista, questa delle prestazioni, quindi davi respiro, davi respiro alle imprese, alle famiglie, davi respiro alle attività musicali, ludiche eccetera eccetera, in piena estate ci sono quelli che mettono i gommoni, le cose, l'animazione sul lungomare eccetera eccetera, allora, perché vedete, quando si programma sui servizi sociali bisogna avere fantasia, tanta creatività, molta creatività e sapere cosa si, ecco perché io dico e torno al discorso di prima, la Calabria è la cenerentola della spesa per i servizi sociali, perché il sociale non è assistenzialismo, il sociale è dare servizi, allora voi dite, tu su Bovalino cosa avresti fatto? Semplice, lineare e corretto, nella prima manifestazione, quando sono stati persi i fondi del 2020 c'era detto che praticamente venivano acquistati materiali specialmente per altri, allora, siccome basta andare a controllare il sito del Ministero della Famiglia, tra le fac c'è scritto praticamente se si possono usare questi fondi per esempio l'acquisto di materiale per i parchi, per i parchi giochi eccetera eccetera, noi Bovalino abbiamo un parco dei diritti dei bambini, non accessibile ai disabili, allora quale cosa di più bella? Creiamo con le associazioni comuni un momento, un campo, un momento di svago con i ragazzi, con giochi di… allora lì aveva il senso comprare la rete per le porte, per il calcio, per il calcetto eccetera eccetera, ma maggiormente poteva essere acquistato come hanno acquistato altri comuni, anche dei giochi inclusivi. Ma infatti qual era la mia domanda? Volevo sapere, gli altri comuni come hanno operato? Vabbè, ma basta, gli altri comuni hanno operato in questo modo, hanno creato o con i voucher o con l'accreditamento dei centri già esistenti, occhio! Quindi l'idea che hai avuto, tra virgolette che avresti avuto, alla fine hanno operato gli altri comuni e tu avresti fatto la stessa cosa? Io per esempio ho estrapolato da internet un avviso del comune di Crispiano in provincia di Taranto, potremmo parlare anche della città di Montaltofugo, dove dice il presente avviso intendo esplorare l'interesse da parte di soggetti non avendo scopo di lucro, ivi comprese associazioni, fondazioni, cooperative sociali e parrocchie ed organizzare i locali propri autorizzati o tramite la richiesta di utilizzo di locali scolastici e pubblici in attesa di eventuali direttive di operazione, i centri estivi, i soggetti che manifestano interesse sono invitati a formulare il processo gestionale. Allora, per esempio, si faceva un'associazione, poteva dire, guarda, caro amministrazione, io, visto che a Bovalino abbiamo il parco dei diritti dei bambini, abbiamo altri due parco giochi sul lungomare non accessibili ed esabili perché non ci sono giochi inclusivi, allora cosa facciamo? Cerchiamo, io ho questo programma, io intendo fare un campo perché dopo deve gestire anche inutile che si dice hanno partecipato 300 bambini all'Olimpiade dell'Immacolata, sì, ma… Ho capito, ma… Il senso? Il senso, tu devi innanzitutto le devi dividere per fasce d'età perché un ragazzino da 0 a 6 anni non gli può fare l'attività che fa da 17, quindi creare delle cose. Fare, e io potevo anche giustificare, un impianto audioviso di 5 mila Euro a me, dopo che già ce l'ha il Comune, che senso mi dà? Lo sai quanto costa, quanto costa, basta andare su internet, una giostra attrezzata per bambini diversamente abili? Dai 3 mila a 3 mila e 500 Euro, già quindi io potevo fare… Bastava veramente poco per far felici… Ma poi soprattutto l'appello che mi piace lanciare è il fatto che comunque viviamo già una situazione davvero drammatica… Cioè io ci tengo, Raffaella, io ci tengo a precisare perché non è che questa è un'accusa, è una cosa alla parrocchia che ha speso 14 mila Euro, perché voi mi dovete spiegare di grazia, quindi ci tavolini e che cosa servono? Penso che questi tavolini, sicuramente opustiche a zebbi, sono stati che poi forse è stata anche l'epidemia, voglio pensarli in questa maniera, ripeto, chiunque vuole… Ma è mancanza di programmazione, perché praticamente la programmazione non si fa a novembre, la programmazione si vengono chiamata i campestivi come tutti, il comune di Locra, il comune di Gioiose… Sì, ma in questo caso anche gli invernali, giusto? Siete estivi che invernali, se non ho capito mai… Sì, ma non ha… perché a novembre, con l'inizio della scuola, l'inizio del catechismo, ci sono state le comunioni con la scuola di danza, la scuola di musica, più neanche ne metta, dopo l'apertura delle attività, penso che un ragazzo non abbia tutto questo cosa, il periodo vuoto era da giugno a settembre, giusto? Però non è che penso che era da giugno a settembre, anche con le belle stagioni… Sì, però poi dall'8 dicembre, come dicevi tu, hanno abolito tutto, hanno chiuso tutto, quindi può darsi e mi piacerebbe pensare che dall'altra parte c'era un'organizzazione, sicuramente per loro che non è stata detta al pubblico, è una cosa sbagliatissima, perché io credo che le associazioni, bisogna soltanto essere una mano d'aiuto, di fantasia, di creatività, perché l'unione fa la forza, questo mi piace… Sì, sì, ma il discorso è che nessuno mette in discussione l'acquisto, etc., etc. Presidente, volevo farle una domanda personale, lasciamo il tutto così com'è, nel senso che lei è stato molto chiaro… Ah, dottoressa, ancora, sarei curioso e aspetto le altre due indicazioni, perché fino ad adesso in mano una ce l'ho… Va bene, ha fatto richiesta presunto, giusto? Sì, sì, sì. Io quello che invece mi piace sapere, che poi piace un modo di dire, però lei ha preso veramente a cuore, a prescindere dell'operato che ha e del Presidente, perché è un Presidente dell'Ad, però lo fa soprattutto per il buon cuore, perché ha una figlia a casa, quindi io anche questo colgo l'occasione da far pensare, perché si dice che chi non lo vive non lo capisce, non può capire e quindi forse non questa rabbia, perché è un parolone, perché lei non è arrabbiato, lei vorrebbe soltanto un punto di incontro Presidente, un punto di incontro, un dialogo, qualcosa per aiutare. Vede, come ha detto lei prima, bastava una semplice nel parco giochi, un che costa 3.000, qualcosa che addirittura ha pure visto il costo, anziché comprare un audio che forse già c'era, tutto questo. Io volevo sapere se lei dovesse fare un appello, ma ripeto, non bisogna puntare il dito, io sono molto per la pace, sono molto pacifica e credo che anche lei dall'altra parte, perché il discorso che abbiamo fatto è che lei personalmente mi ha fatto nessuno vuole il puntare, quindi lei è stato molto, su questo devo dare atto e lei con una mano, io con due, perché nessuno vuole lanciare niente se non una mano d'aiuto e soprattutto questi ragazzi di mettersi un attimino la mano su una coscienza e dire poteva capitare anche a me, perché questi ragazzi già soffrono in sé per sé. che dopo diventano adulti eccetera eccetera, allora Raffaella io ti voglio dire alcune cose, io la collaborazione la offro tranquillamente, magari ho un modo un po' burbero di fare perché li sento, perché capisco determinate situazioni, però a me fa male l'ipocrisia, a me gli ipocrite non piacciono, ti faccio un esempio, io a me quando mi chiedono collaborazione, io partecipo ai tavoli di lavoro a livello regionale, a livello nazionale, sull'inclusione, sulla cosa, ti faccio un esempio, ti faccio un esempio che può essere proprio una cosa illuminante, qualche mese fa, qualche mese fa la città metropolitana di Reggio Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria ha emanato un bando, un avviso pubblico per dare dei contributi ai soggetti autistici 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 da 0 a 14 anni, ti premetto che mi è stato inviato in anteprima da un sindaco, ma Vito guarda che se non ti preoccupare, preside che io sono contro ai contributi economici e a me i servizi mi deve dare, allora io che cosa ho fatto? Ho chiamato il consigliere delegato alla città metropolitana per i servizi sociali che ha lavorato a Mantegna, ho chiamato, gli ho detto, sentiamo un attimo Mimmo, ci chiamo dal tuo e comunale, ma che cosa avete fatto? Dice no Vito, guarda non si fa così, perdonami ma non si fa così, dimmi Vito, ti mando il numero del telefono del dirigente che ha sviluppato questo avviso, gli spiega a lui e io non ho problemi a... Allora, io che cosa ho fatto? Ho chiamato questo dirigente, gli ho spiegato la situazione, gli ho detto, dottore guardate che gli autistici non sono da 0 a 14 anni, gli autistici hanno una condizione, da quando nascono a quando muoiono, prima cosa, quindi lei è discriminatorio che fa il rapporto da 0 a 14, prima cosa, secondaria cosa, alle famiglie degli autistici non gli deve dare le remorse, non gli deve dare i soldi, deve cercare di dare dei servizi, ecco perché io sono per i voucher, per i servizi sul territorio etc., etc., cioè per tirarla a breve, per tirarla a breve cosa è successo? È successo che è stato modificato il bando, è stato un bando rivolto a tutte le famiglie, senza limite di età, quella miseria che c'era, poi mi ha detto il dirigente, quando valuteremo le domande, se vediamo che per esempio sulla provincia di Reggio Calabria ci sono per esempio 700 domande e i soldi quelli sono 80 mila Euro, è inutile che dai 1000 Euro a cosa? Allora cerchiamo di valutare e di fare quel discorso che dicevi tu di voucher, di servizi etc., questo… Quindi questa è stata presa proprio… Certo, ma ti posso dire, ti posso dire, io collaboro… In considerazione? Certo, io collaboro… E da lì dal bando è stato modificato, questo stai dicendo, è una cosa bellissima che significa… Io collaboro in maniera chiara, trasparente, netta, con umiltà, con il distretto socio-sanitario di Locri, con Locri Comune e Capofila, io faccio parte dei tavoli della disabilità, adesso, ci arriviamo… Io lunedì e sabato c'è stato un incontro al centro neurolese di Locri, dopo c'era pure il sindaco Calabrese, io l'ho chiamato, c'era l'assessore Minara, dice Giovanni, guarda, e così ci sono questi fondi che sono stati fatti, lui chiama alla responsabile del settore e gli fa, guarda, convoca le associazioni che si occupano esclusivamente di autismo e vedi le proposte che ti faranno, c'è questa collaborazione, ma tu puoi parlare Raffaella, tu puoi parlare nel momento in cui hai un interlocutore, io non è che ce l'ho con uno o con l'altro, ma se me mi chiamasse… Ma infatti, assolutamente, l'appello che vogliamo comunque cogliere che siamo in chiusura è proprio dire una collaborazione, non di più. Presidente, c'è stata la visita di Tilde Minasi, l'assessore regionale alle politiche sociali al centro neurologico di Locri, che ne stava parlando prima, l'ho lanciato oggi tra l'altro pure al TG News e l'abbiamo anche intervistato, riguardante dove oltre sei mesi era stato sospeso il servizio vitale di fisioterapia e 13 disabili gravi. Volevo fargli vedere uno spezzettone, prego Regia. Niente, intanto io sono qui oggi perché ho raccolto il grido di allarme delle associazioni sulla problematica del servizio di fisioterapia e a me piace sempre rendermi conto personalmente delle situazioni, quindi sono venuta oggi qui a visitare questa struttura che ritengo sia una struttura eccellente. Ho visto anche i ragazzi ben curati e soprattutto ben svegli di solito non sempre si hanno queste belle impressioni quando si vanno a visitare le strutture, quindi io so che c'è oggi un governatore sensibile a queste problematiche, anzi propenso ad avviare finalmente una integrazione socio-sanitaria che fino ad oggi è mancata. Io ovviamente non è questa la mia competenza perché sul sanitario è competente il governatore, mi farò portavoce di tutte quelle che sono le problematiche, che già voglio dire una prima risposta sia pure limitata e stata data dai responsabili dell'Asp che ovviamente ringrazio, ma oggi bisogna garantire alla struttura il servizio necessario affinché queste persone che sono oggi qui residenziali possano avere il giusto trattamento fisioterapeutico perché questo serve a loro per evitare di far degenerare le loro patologie. La vicenda del fisioterapista verrà assegnato o no? Sì, io ho ascoltato i responsabili del centro, loro mi dicono che sarebbe sufficiente che venga riassegnato come era in precedenza un fisioterapista fisso però per la struttura. Io so che anche il governatore ha sbloccato le assunzioni, quindi penso che non ci siano problemi per l'Asp per poter procedere all'assunzione di un fisioterapista da ovviamente dedicare in maniera fissa al centro. E' un po' una famiglia per loro perché il dottore Viole sono anni e anni che sta con questi ragazzi e ha fatto di tutto per lui anche come medico e come persona e certamente i problemi, le criticità ce l'abbiamo perché ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo in tante cose. Speriamo che adesso con questa nuova amministrazione a livello di regione si riesce un pochino ad andare avanti e ci daranno altro personale e si potrà soffarire a tutte queste mancanze che abbiamo. Volevo capire se avranno meglio il fisioterapista? No, il fisioterapista terminale dovrà essere nominato, per ora ci sono i fisioterapisti che come stabilito stanno già venendo, secondo quanto è previsto dai progetti loro individuali, ripeto, ora mi ricordo di preciso quante sono le ore che abbiamo stabilito, ma quanto in base a quello che è scritto nel progetto. Mi pare che il progetto e la terapia di mantenimento sono 15 minuti per il numero dei ragazzi moltiplicati ed è quello, 15-20 minuti mi pare che sia il progetto di mantenimento, 3 settimanali, 3 settimanali è previsto, quello è il progetto, non è che... Non sa se il fabbisogno corrisponde al progetto o no? Il fabbisogno per ogni paziente? Certo, non sono io né voi né nessun altro che può stabilire qual è il fabbisogno, è lo specialista fisiatra e da quello che ha stabilito lui nei piani individuali così verrà effettuata la terapia, in quel modo in cui è stabilito, è né un minuto in più né uno in meno. Molto importante oggi la visita qui al centro da parte dell'assessore alle politiche sociali della regione Calabria Tilde Minasi e grande sensibilità da parte dell'assessore che ha raccolto l'appello e l'associazionismo per venire appunto a verificare quelle che sono le criticità e si sta lavorando l'assessore Minasi, il presidente Occhiuto per risolvere appunto le problematiche sollevate per la mancanza appunto di personale che è un problema che accomuna ormai tutto il comparto della sanità, il presidente Occhiuto come abbiamo visto in questi mesi, a distanza di pochi mesi dalla sua elezione, ha avuto anche l'incarico appunto di commissario di governo e c'è un grande piano di azione che speriamo, lo spieghiamo possa sicuramente interesserà sia questo centro ma e l'intero ospedale di loghi della sanità territoriale e abbiamo fiducia in questa importante azione, le risorse oggi grazie al piano nazionale di presa e resilienza ci sono, bisogna solamente accelerare, accorciare i tempi e dare risposta al territorio e questo è quello che vogliamo. Un percorso lungo che è iniziato da tante battaglie che si sta portando avanti e non molleremo la presa fin quando non avremo adeguate risposte per il nostro territorio e appunto per la nostra Locride. Dalla visita della senatrice Minasi che era accompagnata dal responsabile della sanità della Locride, il sindaco Giovanni Calabrese, abbiamo appreso che finalmente si faranno promotori di ripristinare l'assunzione per impianta stabile di un fisioterapista presso il centro. Noi siamo contenti anche perché si ripristina un qualcosa di essenziale, perché noi non vogliamo andare a trovare colpevoli o meno, anche perché abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Presidente della Regione Calabria, nonché Commissario della Sanità in Calabria, il quale senza mezzi termini, una trasmissione televisiva nazionale ha, diciamo, tra virgolette, accusato l'aspareggina di non essere in grado neanche di fare 500 assunzioni. Quindi noi ci auguriamo che questo, se non è in grado l'aspareggina, che noi invitiamo il Presidente in qualità di commissario di sostituirsi e procedere agli atti per fare questo. Nel frangente ci dicono che finché non verrà fatta questa assunzione si farà un progetto tampone. Noi stiamo contenti, ma vigileremo perché è impossibile, perché se per 9 mesi questi ragazzi sono stati abbandonati a se stesso, se non fosse stato per il gruppo di associazioni nessuno ne veniva a conoscenza. Quindi ringraziamo voi dalla stampa e le autorità che hanno preso a cuore questo e ci auguriamo che nel più breve tempo possibile si arrivi a questa assunzione in pianta stabile. Molto chiaro. Grazie. Tosto e diretto. Presidente, siamo in chiusura. Volevo ringraziarla perché lei è un gran tassello che fa luce ai grandi disagi che ci sono. Io ringrazio voi e alla prossima. Senz'altro. Grazie ancora a voi a casa, grazie dal 60 News e da Raffaella. 3, 2, 1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severina Abbigliamento veste anche d'inverno l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante cerimonia. Rita Severina Abbigliamento veste tutti i nostri locali perfettamente sanificati. Vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento. Storicamente unici. Da Rita Severino Abbigliamento sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Affrettatevi. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 8289 oppure alla 338 2278 144. Reat ADSL. La televisione sta cambiando in tutta Europa. Nei prossimi mesi anche Telemia, Telemia Extra e le altre programmazioni regionali si riceveranno su nuove frequenze. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni consultate il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.